ogni volta a girare per i nostri paesi è qualcosa di veramente eccezionale perché al di là del paese stesso l'italia è meravigliosa da nord a sud lo sapete lo raccontiamo tutti i giorni è sempre bello trovare quelle realtà quelle eccellenze conoscere quelle persone che con cuore e passione e impegno ogni giorno fanno vivere il loro territorio e ripeto vale da nord a sud vale nella piccola provincia come nella grande città vale nella periferia nel quartiere come nel piccolo borgo di montagna le persone che incontriamo e che raccontiamo in questo programma sono persone vere sono persone autentiche sono persone genuine che hanno veramente a cuore ciò che fanno e hanno a cuore il paese che in qualche modo attraverso il loro lavoro riescono a tenere in vita tutto questo è ovviamente le eccellenze dei territori sta per iniziare una nuova puntata sono sempre il vostro davide gerbino la faccia delle eccellenze sono a brade la pianura cuneese per raccontarvi tre realtà tra realtà molto interessanti molto diverse le una dalle altre ma che tutte quante hanno il comune denominatore ciò che vi ho appena raccontato essere eccellenze essere attività essere persone che con cuore e passione fanno vivere il loro paese andiamo a conoscere insieme dai si comincia il profumo la salsiccia di bra e il mondo della casa questi sono tre argomenti che tratteremo in questa puntata bella salsiccia di bra ovviamente non può mancare ne abbiamo già parlato quando io vengo qui avrà devo sempre dedicare un pochino di spazio a questa realtà ma oggi lo faremo in modo particolare perché ho incontrato il presidente del consorzio e soprattutto un ragazzo giovanissimo perché il presidente è un ragazzo della mia età quindi veramente un ragazzino ma prima prima di andare a parlare del mondo della salsiccia facciamo un piccolo passo indietro detto il profumo il profumo il profumo fanno parte delle nostre vite è un qualcosa che abbiamo tutti quanti che amiamo tutti quanti portano gioia portano qualcosa di bello portano moda portano tendenza possono essere un regalo un auto regalo un pensiero per amici parenti per le nostre persone cari insomma e quando trovo un'attività che porta questo nella sua città nelle nostre vite beh la devo incontrare ne devo parlare perché purtroppo ne trovo sempre meno perché ormai le grandi catene i grandi nomi hanno preso un po sopravvento ed è sempre più difficile nella nostra città nella piccola provincia trovare chi ci mette ancora la faccia una profumeria con il nome di una persona che ogni giorno si sveglia presto al mattino per portare il meglio della produzione il meglio di questo mondo nelle nostre case andiamo a scoprire insieme la prima eccellenza lo avete capito parliamo del mondo del profumo andiamo carissimi amici lo Lo sapete, io girando per le nostre città, per i nostri paesi, ogni tanto vengo attratto nell'attività dal profumo, che può essere il profumo del pane, può essere il profumo di qualcosa di buono, ma può essere anche il profumo vero e proprio, quello che ci concediamo ogni tanto come un regalo, come un momento per noi stessi o come anche un pensiero per gli altri. Purtroppo, ve lo dico spesso, nelle nostre puntate è sempre più difficile trovare una profumeria ancora tradizionale, gestita ancora a livello familiare da una persona, come definisco io, reale, nel senso che non è una catena o una multinazionale, ma una persona che investe ancora, che crede ancora nel territorio e che porta ancora questa meraviglia nel territorio. Abra, tutto questo, è rappresentato dalla ragazza che vedete qui a mio fianco, Laura. Benvenuta, Laura. Grazie per la ragazza. Beh sì, perché devo dire, ora scopriremo che in realtà tu fai questo da molto tempo, perché abbrà... Saranno 40 anni a novembre, abbrà da nove. Abbrà una decina d'anni, però 40 anni di attività, non chiedo l'età perché alle signore non si chiede, ma io pensavo ne avesse 40 anni in tutto, quindi ho iniziato che era ancora della culla praticamente. Una vita passata veramente in questo mondo. Se sono passati tutti questi anni, io credo che il motivo sia fondamentalmente uno. La passione. È brava, mi hai anticipato. Quanta passione c'è in questo lavoro. Tantissima, tantissima. È un lavoro che io continuo ad amare, anche se sono passati tanti, tanti, tanti anni. È un lavoro molto femminile, bellissimo il rapporto che si ha con i clienti, che per noi sono una famiglia, io lo dico sempre. Siamo proprio molto affezionati ai clienti e penso che questo traspaia. Ci sono anche delle cose meno positive nel nostro lavoro, tipo il grande impegno economico. Però se tutto si fa con la voglia e anche la voglia di continuare ad imparare perché ci si mette sempre in gioco con nuovi prodotti, nuove linee, è bellissimo. Lo vedo e lo vedo, non so se voi amici a casa lo vedete, voi state già vedendo alcune immagini, lo vedo un po' dal suo occhio lucido mentre che racconta e questo ormai lo sappiamo, è la prova del 9. Se c'è l'occhio lucido vuol dire che siamo di fronte a una vera eccellenza, siamo di fronte a chi davvero ci mette il cuore in ciò che fa e Laura ha l'occhio lucido, quindi questa è una garanzia. Tornando al discorso che faceva, partirei proprio da questo aspetto che è, lo sottolineo sempre ma che non tutti sanno, l'impegno appunto a parte professionale, l'impegno economico. Perché adesso stiamo iniziando a vedere tantissime immagini, tantissimi prodotti, avete veramente un'infinità di referenze. Sì, ne abbiamo tante. Io vorrei sottolineare questo aspetto che secondo me è importante, cioè tutto questo voi l'avete già pagato. Eh beh, certo, questo sicuramente. Perché molti non lo sanno, molti pensano che avete tutte queste cose in conto vendita, cioè che ve le danno, poi se le vendete bene. In conto vendita praticamente non esiste più, ma ormai da decenni, forse era presente i primi anni che io lavoravo, parliamo di 40 anni fa appunto. No, 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 è tutto pagato, l'impegno c'è e continuo perché tutti i giorni ci sono cose da pagare, per cui affitto, le solite cose che sono nella vita di tutti i giorni. Un aspetto che forse non tutti sanno perché finché è la bolletta, magari più o meno, però tutto il resto no. E soprattutto vorrei sottolineare al di là dell'investimento economico c'è anche da parte vostra un'attenzione e una capacità che io credo che nessuno ve lo possa insegnare di guardare un po' al futuro. Voi quando ordinate un qualcosa anticipate un po' quella che sarà la tendenza. Decisamente, nell'accessorio soprattutto perché gli ordini si fanno almeno un anno prima, per cui noi abbiamo già visto ampiamente tutto, non so, l'autunno e inverno, compreso il Natale prossimo, le linee più particolari, magari anche quelle più esclusive che potremmo avere in pochi, ad esempio in Piemonte, vengono presentate decisamente mesi prima. Ci sono dei corsi da fare per essere sempre molto preparati, sempre sul pezzo, come si dice. E quindi l'impegno c'è, però sempre fatto volentieri, come dicevamo prima. Esatto, anche a livello di ore, perché noi vediamo un orario ufficiale di lavoro che già non è proprio da poste. Sì, sono le classiche otto ore. Già ce n'è parecchio. Però poi, come stavi già anticipando prima, c'è molto altro, perché tutti questi prodotti non è che arrivano qui per caso. Assolutamente. C'è una ricerca, c'è un lavoro. Tutto tempo che comunque togli alla tua famiglia fondamentalmente. Sì, diciamo che la mia famiglia è abituata, mi sopportano, sanno che io vivo per il negozio, nel senso che per me il negozio è un po' un secondo figlio. Esatto. Diciamo che al mattino alle sette, sette e un quarto sono già qui e tante volte continuo fino alla sera alle venti, ma molto volentieri. Mi apre una profumeria, sarà un lavoro tranquillo, però lei invece no. Tanto, però è un bellissimo lavoro. Esatto. Tutto quello che è attività impropria, alla fine è così, c'è questa soddisfazione. Mi dicevi prima, arrivando proprio anche ai prodotti, perché stanno già scorrendo tantissime immagini, ma vorrei sottolineare, ci sono alcune aziende, alcuni prodotti che non dico che hai l'esclusiva, ma quasi, che tengono in pochissimi. Allora, l'ultimissima novità è Nure, è una linea che è praticamente un binomio fra le neuroscienze e il trattamento viso. Quindi abbiamo un benessere esteriore, ma anche interiore. È una linea nella quale noi crediamo tantissimo e per il momento siamo in tre o quattro concessionari in tutto il Piemonte ad averla, quindi è motivo d'orgoglio. Esatto, esatto. E questo non arriva a caso, cioè questa possibilità è dovuta proprio all'esperienza, anche perché queste aziende si fidano, perché non è che offrono i prodotti a chiunque. No, per fortuna no, bisogna avere una determinata preparazione, uno storico sicuramente. Un'altra cosa che sicuramente è interessante, qui c'è anche la possibilità di testarli questi prodotti, di provarli, infatti anche dei momenti appositi. Sì, noi abbiamo delle settimane dedicate al trattamento, al macchiaggio, ad esempio la scorsa settimana avevamo Paolo, il truccatore di Chanel che noi adoriamo, ciao Paolo. Sì, sì. E poi tra, dunque l'ultimo giorno di maggio e poi il, scusate, l'ultimo giorno di aprile, il 2, il 3, il 4 maggio avremo il trattamento Sisley, ma se si vuole si può anche fare un macchiaggio oppure dei massaggi shazzo. Insomma, abbiamo una cabina apposita per quando ci sono questi eventi. Non solo il prodotto, ma anche tutto quello che c'è attorno. Certo. E questo è quello che fa, secondo me, la differenza ancora in un'attività tradizionale, quella coccola. Cioè, chi viene qua, io mentre in questo tempo che ho passato insieme a voi sono entrati tanti clienti e vedo proprio un approccio diverso. Cioè, le accogliete quasi appunto come se fosse... Per noi è un piacere. Quasi come fossero parenti, perché all'inizio dico se sono tutti parenti, ma noi invece no, invece non si conoscono. La nostra famiglia, come dicevamo prima. E questo, secondo me, è ciò che fa la differenza. Cioè, il motivo per cui un'attività come questa è ancora importante e soprattutto è importante capirlo, perché qui troviamo il profumo, è un qualcosa che ci concediamo una volta ogni tanto, è male nella vita, comunque ci durano male il tempo, quindi non è un negozio che frequentiamo tutti i giorni. Però ricordiamoci che quando veniamo qua, che abbiamo questo rapporto, questa attenzione, il momento in cui viene a mancare, ci manca veramente un qualcosa. Qui non siamo dei numeri, qui siamo delle persone. Decisamente, innanzitutto, delle care persone. Come dicevo prima, una famiglia. Esatto, esatto. E questo è veramente molto bello ed è ciò, secondo me, che può fare veramente la differenza. Ed è il motivo per cui dobbiamo tenere veramente a cuore questa attività. Perché io vedo paese, città, dove un'attività come questa non esiste più. E lì manca veramente qualcosa. Senza contare che, nel tuo caso, è un'attività veramente anche molto grande, molto bella. Ti faccio anche i complimenti dal punto di vista estetico, perché l'hai arredato veramente bene. Si vede che ti intendi di moda, perché hai creato qualcosa di unico. Ed è molto bello anche proprio per il paese. Noi siamo proprio in pieno centro, in questo caso a Bra. E su una delle piazze più belle. Esatto. Ed è anche una delle piazze più belle, anche grazie ad attività come la tua. Grazie. Perché visto da fuori, effettivamente, mi immagino, il turista che non conosce Bra, che arriva, che si vede un'attività come questa, un'attività così potrebbe essere tranquillamente a Roma, in piazza Navona, piuttosto che a Milano, in piazza Duomo. Invece sei nella piccola realtà di Bra. Bra, dei bellissimi negocchi. Grazie a tutti. E carissimi amici, mamma mia, profumi meravigliosi, aziende selezionate, piccole realtà di nicchia che guardano però al benessere, guardano al bello. L'Italia è il paese del bello, delle cose belle, è il paese dell'artigianalità. Beh, l'argomento di cui sto per andare a parlare ha a che fare con questo mondo, col mondo dell'artigianalità, perché è un'attività storica, quella che conosceremo, che guarda il mondo della casa, nata proprio come azienda che vendeva le ceramiche, perché il mondo della ceramica un tempo era alla base dell'economia italiana, i ceramisti d'Italia erano conosciuti in tutto il mondo. Purtroppo le cose sono cambiate, i tempi sono cambiati e questo settore ormai è quasi scomparso. Però ci sono alcune attività che provano ancora a valorizzare la ceramica made in Italy, ma non soltanto, perché vedremo tantissimi altri prodotti per la casa che sono proprio 100% italiani. Quindi andiamo a conoscere insieme un'altra attività storica che fa veramente qualcosa di importante per il suo territorio. Andiamo a conoscerla insieme. Il mondo della casa è un mondo sicuramente importante, perché ci accompagna ogni giorno. La casa è forse la cosa più importante per noi, per le nostre famiglie. Ci sono attività proprio dedicate a questo, che hanno dedicato l'intera loro vita a riempire le nostre case. Attività che purtroppo ve lo racconto spesso in questo programma, in giro riesco a trovare sempre meno, perché ci sono le grandi catene, ci sono le grandi multinazionali. Trovare ancora una famiglia che ogni giorno apre un negozio dove troviamo articoli per la nostra vita quotidiana, ma non soltanto, è veramente molto difficile. Ma quando le trovo sono di solito famiglie che hanno alle spalle una storia decennale, decenni all'insegna proprio di questo, del mondo della casa. È il caso della famiglia di Roberto, il signore qui al mio fianco, che vi voglio presentare. Benvenuto Roberto, il tuo è un cognome importante qui a Bra, perché siete qui, dicevamo prima, dal 78. 78, poi c'erano ancora i miei nonni che lo facevano, quindi... Andiamo all'inizio del secolo. Ecco, agli anni 40. Come si chiama la tua famiglia, così giusto per far capire? Sì, la mia famiglia è la famiglia Cardona, dove c'era mio zio e c'era mio padre che hanno iniziato l'attività circa una sessantina d'anni fa e poi è proseguita tramite appunto la mia opera e quindi sono subentrato io, diciamo. Pensate più di 60 anni di storia, sempre però all'insegna della qualità, all'insegna dell'attenzione per il cliente, perché io credo che è un mondo che è cambiato completamente, questo settore soprattutto, poi dopo ne parleremo un attimino con calma. La cosa che sicuramente però non è cambiata in tutti questi anni è la vostra passione per questo lavoro, perché io credo che 60 anni fa, come oggi, senza la passione, un'attività come questa è difficile portarla avanti. Sì, sicuramente, perché i miei genitori appunto hanno iniziato appunto da giovani, quindi mio zio e anche mio zio, in questa attività perché appunto era la loro attività. Esatto, era nel DNA di farlo. Nel DNA e poi l'hanno trasmesso a me e quindi io ho proseguito nonostante tutte le difficoltà che ci sono. Perché oggi purtroppo, come dicevamo, una volta quando questa attività è nata, un'attività come questa era fondamentale, perché tutti si veniva quasi tutti i giorni, perché mancava sempre il pezzo, mancava la cosa, e anche per le grandi occasioni, penso ad esempio alle liste nozze, cioè una volta si venivano due fidanzati, si sposavano, andavano a vivere insieme dopo esserci sposati, quindi c'era una casa da rifare e voi gliela rifacevate dall'azienda. Senz'altro, sì, quello senz'altro, infatti venivano, facevano le liste e ce n'erano tantissime, perché eravamo anche l'unico punto di riferimento, perché in quei tempi, diciamo anni 80, che attività come questa ce n'erano. Non c'era né la grande distribuzione, né il mondo online, né Amazon, non c'erano tutte queste. Quindi era un punto di riferimento ed era anche forse un bel momento, perché alla fine una giovane coppia che arrivava, che iniziava a scegliere che cosa mi serve, e cosa non ci serve, come arrediamo questo, come arrediamo quell'altro. Forse è un qualcosa che purtroppo abbiamo un po' perso, ma che invece aveva ancora il suo fascino. Oggi ormai ci sono ovviamente tante più convivenze, quindi quando ci si sposa ormai la casa è già fatta fondamentalmente. Sì, poi anche la comodità forse per i giovani, che ordinando su internet viene portato tutto a casa. Rimane tutto più veloce. Infatti, perché hanno meno tempo forse a disposizione, per cui... Quindi cambia completamente, ma una cosa che non cambia e che l'ho vista un po' in questi momenti che ho passato qui, è quel rapporto di fiducia che avete ancora col cliente. Cioè io ho visto alcuni clienti appunto che sono venuti ad acquistare, e lei ha comunque sempre un consiglio, una parola, un qualcosa che non troviamo altrove, perché vai altrove, sei fondamentalmente un numero, non ti guardano neanche in faccia. Qui invece c'è ancora questo. Cerchiamo appunto di seguire il cliente, di consigliarlo nelle scelte, e di fare il possibile per accontentarlo in qualsiasi... Il vostro valore aggiunto, forse è proprio questo. Ecco, questa è la differenza, diciamo, dei punti vendite di supermercati o altre cose, dove noi seguiamo proprio il cliente e facciamo il possibile per... E questo è un qualcosa che forse oggi torniamo ad avere bisogno, è nel DNA di questa attività, però oggi ci manca questo rapporto umano, rapporto familiare, chiamiamolo come vogliamo, però è veramente un qualcosa in più, un valore aggiunto in più, che oggi forse fa la differenza e oggi ci manca. E forse aiuta anche a mantenere l'attività, appunto... Esatto, esatto, se queste attività vivono ancora, forse è proprio per questo. E grazie a questo, perché altrimenti a questo punto... Diventa complicato. Stiamo vedendo alcune immagini, qui davvero avete tantissime referenze, cioè una volta forse ce n'erano ancora di più, ma oggi ne vediamo veramente tantissimi. C'è una cosa che voglio sottolineare e che però non tutti forse sanno, io lo dico quando incontro questa attività in ogni puntata, però è sempre bene ribadirlo. Come detto, tantissime referenze. Dietro a queste referenze però c'è un investimento importante, perché tutto questo non è che ve l'hanno regalato o ve l'hanno prestato, cioè voi l'avete già pagato. Ah, senz'altro, quello l'impegno appunto di capitale ci vuole, bisogna anche cercare di fare delle scelte in modo oculato e diciamo abbastanza giusto per non rischiare appunto di trovarsi poi dei prodotti che sono invendibili. Esatto. Per cui bisogna cercare di seguire anche, diciamo così, la tendenza del momento, cercare di capire anche la clientela cosa preferisce. Esatto, questo è uno di quegli aspetti che forse i clienti, da clienti sottovalutiamo o comunque non consideriamo. Intanto appunto l'aspetto economico, perché molti pensano che magari questi prodotti vengono dati, insomma, in conto vendita, cioè se lo vendi bene e invece no, non funziona così. Anzi, più delle volte si pagano anticipatamente, ancora prima che arrivino fisicamente e questo sicuramente è un aspetto molto importante e poi c'è questo aspetto del dover anticipare un po' quelli che sono i desideri degli altri e questo è un qualcosa che non ti insegna nessuno. Cioè come l'hai imparato questa esperienza? Dall'esperienza, poi anche da quanto mi avevano detto i miei genitori, appunto di appunto sempre seguire appunto la clientela, cercare di capire un po' le idee, e puoi seguire un po' così l'andamento generale, infatti tutti gli anni c'è la mostra, con le fiere, quindi sono sempre andato per poter vedere la tendenza del momento, i colori anche. E questo è un altro aspetto importante che non vediamo, perché oltre alla parte economica ovviamente c'è anche tutto questo che è un altro investimento, perché per essere sempre al passo con i tempi comunque appunto bisogna viaggiare, c'è le fiere, non è che le fanno a bra, bisogna andare a Milano, sì sì decisamente. Quindi anche quello è un altro investimento e un impegno. Quando magari arrivate, vedete la serranda abbassata, magari il giorno di chiusura, dice beh lui sarà a casa a divertirsi, invece tendenzialmente è a casa a lavorare in un'altra maniera, ma sempre a lavorare. Questo è fondamentale, perché tutti questi aspetti ci fanno capire quanto oggi più che mai è importante un'attività come questa e il perché dobbiamo imparare a valorizzarla, perché tutto quello che fanno, questo investimento, è un qualcosa che ritorna nel loro territorio. In questo caso siamo a bra, è un investimento fatto per la città, per il paese, per i cittadini. Se non ci fosse lui oggi intanto, qua ci sarebbe probabilmente un negozio abbandonato. Credo che è un'attività talmente ampia, talmente grande, che sarebbe difficile riempirla in un'altra maniera. E poi, al di là di questo, il paese stesso perderebbe veramente un valore aggiunto. Vale per Bra come vale per qualsiasi altra città d'Italia. Sì, anche gli intorni, perché noi abbiamo molta clientela proprio nei dintorni di Bra. Siamo nel Roero, qui sono tutti paesi molto piccoli, quindi non ci sono più purtroppo attività come questa. E quindi è un valore veramente importante ed è per questo che dobbiamo imparare a valorizzarlo e imparare veramente a capire quanto è importante. Anche perché, scorrendo alcune immagini, ho visto che molti dei prodotti in esposizione abbiamo ancora dei grandi marchi del Made in Italy, tra l'altro. Qui siete una piccola vetrina anche del Made in Italy. Infatti, cerchiamo soprattutto di andare su prodotti nazionali, su ditte appunto che... Nel limite del possibile, perché non è facile. Eh sì, perché adesso purtroppo tante ditte che possono avere il nome italiano, però si rivolgono all'estero i paesi appunto o Cina o India, in quei posti. Anche questo non è semplice stare dietro a tutto questo. Il profumo, la casa, cosa manca? Manca la falsiccia, la falsiccia di Vra. Beh, vi avevo anticipato che ne avremmo parlato anche in questa puntata e come detto, lo voglio fare andando a trovare il presidente del consorzio. Ma il mio interesse non è solo per la salsiccia e solo per il presidente, ma proprio per la sua giovane età. Vedremo due ragazzi, in realtà, è un ragazzo e una ragazza, fratello e sorella, che portano avanti la tradizione, la tradizione di famiglia, la tradizione del loro padre che faceva il macellaio, ma soprattutto portano avanti la tradizione di questo prodotto tipico di questo territorio, che non possiamo non citare ogni volta che veniamo a Vra. E quindi andiamo a conoscere la falsiccia di Vra, andiamo a conoscere il presidente del consorzio, ma soprattutto andiamo a conoscere la storia di due ragazzi che portano avanti la tradizione della macelleria alla piemontese. e quindi andiamo a conoscere il terreno di un amico continua la nostra scoperta di bra partendo proprio dalla carne uno degli argomenti più importanti per quanto riguarda il piemonte la provincia di cuneo e qui su bra ovviamente lo abbiamo detto già altre volte la protagonista è lei la salsiccia di bra tra tante attività che portano avanti questo prodotto così importante ne ho scovata una che per mia sorpresa perché non me lo aspettavo ma il bello un po del nostro programma è portata avanti da due ragazzi giovanissimi questo lo sapevo perché mi hanno segnalati proprio per questo siete giovani per lui è il fratello marco marco giusto poi c'è anche la sorella che sono la francesca e dopo la vedrete sicuramente ma stavo dicendo che marco è il presidente del consorzio della salsiccia di bra quindi oggi possiamo veramente conoscere al meglio questo prodotto partendo proprio da uno che è all'interno del consorzio a 360 gradi ma prima di parlare della salsiccia facciamo un piccolo impasso indietro perché la loro attività si chiama carena si chiama carena ed è un'attività come dicevo storica per quanto riguarda bra ma portata avanti oggi dalle nuove generazioni e io vorrei proprio partire da lì avete una bella responsabilità tu e tua sorella la responsabilità è grande oggi è difficile avere un'attività una partita iva tutte cose molto difficili però la mia attività nasce nel 1979 a novembre da mio papà e lui l'ha portata avanti per 40 anni andando in pensione nel 2019 da poco vi ha lasciato l'eredità proprio nel momento più difficile nel momento più difficile io sono diventato titolare primo dicembre 2019 quindi ho preso il covido per tutto quello che c'era però come dico sempre io sono quelle cose che un po vanno a spronare cioè se riuscite a superare quei momenti non vi ferma più niente voi li avete superati quindi non mi ferma nessuno poi due anni dopo sono diventato presidente del consorzio della salsiccia e dei macellai di bra e questo devo dire che è un bel riconoscimento per come dicevo tu sono un ragazzo molto giovane più giovane tra i vecchi perché adesso ci sono già dei figli di altri macellai più giovani di me però diciamo io sono il più vecchio dei giovani ok ok non so se avete capito ma il senso il senso era quello a me interessava molto questo aspetto perché insieme a tua sorella portate un po avanti la tradizione c'è da un lato proprio la salsiccia che sicuramente su bra è qualcosa di importante ma anche un po in generale in quello che è il vostro mestiere perché si dice che oggi giovani hanno magari poca voglia di sporcarsi le mani di fare voi siete l'esempio che non è vero no non è vero è difficile trovare se cerchi un aiutante giorno d'oggi è difficile perché cercano il lavoro già imparato che ti alzi tardi e finisci presto e non lavori il weekend qui invece ti alzi presto finisci tardi tutti i giorni diamo due numeri giusto per far capire a chi ci guarda quante ore passate solo all'interno di questa attività perché poi c'è anche tutta la parte di ricerca della carne in giro partiamo dall'attività io praticamente mi sveglio tutte le mattine alle quattro e mezza quella la mia sveglia abitudinaria quattro e mezza quattro e mezza non sapevo neanche ci fossero anche del mattino le quattro e mezza giusto per le quattro e mezza tutte le mattine dal lunedì al sabato e arrivo a casa alle sette e mezza di sera fatevi due punti al sabato perché poi noi siamo chiusi lunedì pomeriggio il giovedì pomeriggio però in quegli ambiti vai in giro a comprare le bestie vai dal commercialista e tralasciando la parte puramente burocratica che comunque fa parte del lavoro proprio questo tipo di lavoro vuol dire anche andare a cercare a cercare perché voi andate ancora in allevamento lo toccate ancora come si dice noi cerchiamo i nostri allevamenti che sono tutti chilometri zero perché da qua noi andiamo a cad del bosco andiamo a cherasco tutto nell'interland ok tutto nell'interland e questo è veramente un aspetto che forse non tutti sanno perché noi entriamo vediamo quella bella carne tutta bella esposta diciamo vabbè gliela avranno portata stamattina in realtà non è esattamente così anche in questa ricerca quanto conta la tua esperienza quanto conta quello che ti ha tramandato la tua famiglia nel trovare poi il capo giusto perché non è facile cioè io dovesse andare ho capitato abbiamo fatto puntata in allevamenti ma non è facile impararlo io di fatti vedo che se tu devi insegnare a un ragazzo giovane tutto il mestiere completo è molto difficile io diciamo che quando sono nato dopo sei mesi i miei avevano già l'attività io ero in negozio perché loro non potevano permettersi di pagare una babysitter e quindi a me mi sventolavano i salami sopra questo all'inizio e poi io a otto nove anni sapevo già fare la salsiccia e l'avevi nel dna alle superiori io andavo a scuola e al pomeriggio al mattino e al pomeriggio venivo aiutare la mia famiglia e quindi io non ho mai dovuto impararlo ti l'hanno proprio tramandato l'hai imparato con gli occhi come quando imparò la lingua ci cresci insieme però non è non è facile non è assolutamente facile perché ripeto noi lo raccontiamo ogni giorno lo raccontiamo cerchiamo di raccontarlo in modo più semplice possibile ma effettivamente c'è tutto un lavoro c'è tutta una ricerca che che non è scontata e quando dobbiamo imparare proprio a valorizzare questo aspetto perché una parte di ciò che fate che a volte non viene considerata dal cliente finale ma che invece è poi difficile ed è il motivo per quella carne poi fa la differenza certo quella è la parte più difficile e poi c'è la salsiccia di bra perché siamo a bra ovviamente quindi devo parlarne per forza e ne parlo con il presidente del consorzio ora che chiariamo subito questa cosa perché la salsiccia di bra è diversa dalle altre è così rinomata rispetto ad altre salsicce comunque sono altrettanto buone perché questa qualcosa in più allora la salsiccia di bra è siamo solo in otto a poterla produrre innanzitutto perché ci sono tante copie in giro e vai tutto attorno a vai torino o dintorni non faccio nomi però è è molto copiata ok gli unici che possiamo farla siamo in otto consorziati io e altri sette ok la salsiccia di bra è rinomata perché perché sottolineo solo per chi dovesse venire da questo territorio capite se fa parte del consorzio che all'interno dell'attività c'è proprio il logo del consorzio il logo del consorzio che è la zizzola con il marchio della salsiccia di bra è il modo per riconoscerlo la salsiccia di bra nasce da un vecchio decreto del 1948 e non a bra nasce a kerasco a kerasco dove c'era una comunità ebraica e producevano questa salsiccia 100 per cento di bovino per questa comunità ebraica ok ok poi bra se n'è appropriata se n'è appropriata questo 100 per cento di bovino lo riduce ci mette solo più l'ottanta per cento e col 20 per cento di pancetta di maiale sale peppa aromi naturali poi c'è chi ci mette vino chi formaggio ognuno ha una sua piccola la sua ricetta personale e la mangi cruda questa salsiccia di vitello è l'unica in italia l'unica salsiccia italiana ad essere mangiata cruda questo fa la differenza chi l'ha assaggiata io ho avuto il piacere di assaggiarla già diverse volte effettivamente è quasi come mangiare battuta di fassona praticamente è praticamente sì è carne cruda è proprio carne selezionata ne abbiamo tutti i vitelli piemontesi fassoni ci va carne magra farla non è facile il procedimento purtroppo carissimi amici arriva sempre questo momento il momento dei saluti oggi abbiamo raccontato tre storie veramente molto differenti è perché siamo partiti dal profumo poi il mondo della casa la ceramica il mondo della salsiccia della carne insomma argomenti che non c'entrano quasi nulla tra loro ma che invece hanno molto in comune perché tutte le persone che abbiamo conosciuto sono importantissime per bra in questo caso per il loro territorio tengono in vita il loro territorio senza di loro questo territorio morirebbe senza di loro morirebbero quei lavori morirebbe quella tradizione morirebbe quella passione dobbiamo imparare a valorizzarle il senso di questo programma è proprio questo valorizzare chi ama il territorio valorizzare chi porta avanti il territorio questa è la nostra mission questo è il nostro obiettivo questo il nostro ruolo e allora continuate a seguire le eccellenze dei territori sul digi network sui migliori channel tv d'italia in lungo in largo un po ovunque perché solo grazie a voi potremmo continuare a portare avanti tutto questo dal vostro davide germino la faccia delle eccellenze fare momento è tutto appuntamento alla prossima puntata non so dirvi dove sarò perché sono on the road in tutta italia quindi un giorno qua un giorno la un giorno su un giorno giù insomma alla prossima ciao 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 ciao